Maurizio Giordani, guida alpina e appassionato viaggiatore, vanta oltre 80 spedizioni in tutto il mondo. Dalla Patagonia al Pakistan, passando per Giordania, Sudafrica e Namibia, Maurizio ci racconta dei suoi successi, ma anche dei tentativi falliti, delle rinunce e dei progetti lasciati in sospeso, in un libro che combina emozioni scritte a immagini fantastiche. Maurizio Giordani, il richiamo dell'ignoto, lo trovi in libreria e nei negozi specializzati, con lana I Rampicanti, edizioni Versante Sud.